lunedì 11 dicembre in primo piano ancora le emergenze create dal mal tempo ieri è arrivata la nevicata oggi invece la pioggia gelata con temperature molto rigide dunque alberi e rami sono cadute sulle strade molto difficoltosa la viabilità soprattutto in collina in montagna tantissimi volontari di protezione civile al lavoro anche i comuni impegnati per liberare le strade e connettere anche quelle frazioni che erano rimaste isolate poi purtroppo blackout anche qualche studente non è riuscito ad arrivare a scuola soprattutto nei paesi di alta montagna allerta rossa anche per i fiumi in piena tanti volontari come dicevamo al lavoro per questa giornata davvero di forti emergenze legate al mal tempo a proposito domani la situazione dovrà demigiorare secondo le previsioni temperature in aumento dovrebbe tornare il bel tempo nella giornata di domani niente pioggia dunque temperature più miti probabilmente cesseranno anche le emergenze anche se i danni e i problemi dovranno essere verificati nei prossimi giorni andiamo avanti parlando dell'oncologia di piacenza una vera e propria eccellenza che si è guadagnata un articolo sul prestigioso inserto salute del sole 24 ore premiata in qualche modo per la ricerca e anche per il modo di lavorare all'interno del reparto dell'oncologia piacentina a proposito di eccellenze della nostra città i colori della carità si chiama così la mostra su san vincenzo dei paoli che inaugurerà il collegio alberoni sabato prossimo la prima assoluta in italia chiudiamo con lo sport alle 20 20 torna come ogni lunedì zona calcio alle 20 45 ma il tempo permettendo invece il piacenza calcio riceverà al garilli la siena per il posticipo del campionato di serie c tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it ntg alle delle 19 30